4. Cortile di legno Il Parlamento era diventato un grande cortile di legno, dove ai fascisti piaceva sentirsi parlare. E gli sembrò che la bandiera italiana, a poppa del peschereccio che lo portava in esilio, cadesse oltre l'orizzonte. Fu l'unico momento in cui pensò di averla perduta. C'era una compagna con lui quel giorno, che tacque per tutto il viaggio, perché si sentiva umiliata. Era l'Italia. Sbarcato a Marsiglia, da buon soldato, si mise in marcia, senza portare armi. Era lui stesso un'arma. Quando giunse a Parigi, non vendette la sua lotta per un posticino tiepido di esilio. E da lì, per gli interessi dell'Italia, suonò tante volte il segnale d'attacco senza sbagliare una nota. Come religione ebbe la sua anima. Non aveva che la sua mente per combattere, ma anno dopo anno riuscì a strappare al destino il suo ritorno. Commento. I partiti, le organizzazioni e tutto ciò che divide fanno parte dell'esperienza di chi ha ancora bisogno delle separazioni per vincere o essere vinto. Per questo, le organizzazioni hanno un significato solo nella relatività di un gruppo di individui che, in una determinata epoca storica, crea, percepisce, quelle organizzazioni e le esperienze che da esse scaturiscono. Non è dunque l'individuo che subisce l'epoca storica in cui si incarna, ma è lo stesso individuo, insieme a tutti gli altri che con lui hanno sentire affini, che si crea, percepisce quell'epoca. Questo significa che il grado di evoluzione che quell'individuo ha raggiunto poteva creare e percepire solo quell'epoca, perché solo di quegli eventi e non di altri aveva bisogno per la sua successiva evoluzione. Grazie. 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 Grazie.